Al nostro fianco le immagini che riportano il logo di quest'anno dell'EMA International e una vera e propria opera d'arte. Sono con l'artista Dario Gambari che adesso, gentilmente, io faccio finta di non sapere nulla, ci racconta l'opera e soprattutto come è stata realizzata. Allora, è stata realizzata con un bivomere e con un trattore, un aratro, su un terreno di 27.000 metri quadrati dove prima c'era del mais che è stato tolto e nelle stoppie del mais è stata fatta quest'opera d'arte. Dunque, è stata fatta senza nessuna, non avendo tracciato niente in precedenza, avendomi fatto uno schizzo naturalmente del trattore e poi sono andato così a immaginazione. Però come nasce in te la voglia, la passione per questa tipologia d'arte? Allora, prima di tutto io sono un artista perché faccio dei quadri. Poi, la mia origine, mio padre era un agricoltore e la terra, i trattori li ho sempre usati, ecco, sempre arato. E niente, ero in Germania e mi sono accorto di quest'arte perché però loro lavorano in un modo molto diverso perché, diciamo, tracciano, insomma, segnano mentre questa cosa qui io la faccio così, diciamo, proprio a immaginazione senza tracciare niente sul terreno e mi sembra artistica, ecco. Ma poi sei tu che l'hai proposta a Leima? Diciamo che ci siamo incontrati, ecco. Ah beh, insomma, Dario, io ti devo fare i complimenti perché è veramente meravigliosa, le immagini, il filmato lo testimoniano, complimenti a Dario Camarino. Grazie, grazie a voi, grazie.